Senatore Taricco, siamo qui oggi chiamati dalla piccola e media impresa di Cuneo Provincia per parlare di Recovery Fund. Che opportunità è questa che ci si presenta tra poche settimane, entro la fine dell'anno per il nostro territorio? Io credo sia un'opportunità straordinaria prima di tutto perché le riforme previste sul piano generale e gli interventi infrastrutturali e su singoli comparti settori della pubblica amministrazione, della ricerca, dell'innovazione che porteranno valore aggiunto a tutto il sistema imprenditoriale e quindi anche a un vivace sistema imprenditoriale come quello di questa provincia. Poi essendo questa provincia una provincia a forte vocazione agricola, credo che i fondi previsti sia per la logistica, sia per le filiere, sia per la meccanizzazione in tutti i suoi risvolti non potranno che portare benefici. Questa è una provincia ad esempio che ha la più grande industria italiana di meccanizzazione agricola, il fatto che il fondo preveda grandi investimenti delle imprese agricole sulla meccanizzazione non potrà che mettere in moto un utilizzo di indotto che avrà ricadute sicuramente positive. Quindi io credo che ci attenda una stagione, diciamo così, i prossimi 3-4 anni di grandi investimenti, di grande ammodernamento e anche di grande spinta economica per un territorio come questo.